Una regina cattiva vuol uccidere tutte le neonate per sfatare una leggenda sulla fine del suo regno, ma una neonata si salva grazie al nano Willow, che con l'aiuto di un giovane guerriero sconfiggerà la regina cattiva. George Lucas e Ron Howard Cocoon cercano di ridare vigore al filone fantasy combinando una fiaba alla Biancaneve con le crudezze del film alla Conan.